Ragazzi se volete sostenere il canale e le serie potete farlo anche con il supporto a un creatore di fortnite con il codice IN-ALTO-CAMPER potrete condividere con noi gli acquisti futuri di skin e V-Bucks Un ringraziamento a chi lo farà detto questo vi lasciamo al video buona visione Raga facciamo una Detran all'avanguardia coi cannoni così siamo Ma ci rimettiamo gli orgasmi Scad era era spawn e non è una soundboard era spawn basta C'è un po di gente in casa ma se io lo picco non muore proviamo Facile vedi camper ha massacrato spawn Qual è questo? Sì Abbiamo la Detran abbiamo quattro ore dai perlomeno Ma io tra due ore devo uscire posso? Oh camper vuole leggere le istruzioni? Sì mi devi anche tradurre grazie Quindi le devo leggere io Benvenuti al lancio del tempio l'esperienza con i nuovi cannoni e bellissime challenge È molto importante divertiti Vabbè è poco interessante È ovviamente Un vandalo mi uccide È molto importante divertirsi io così mi diverto Gioca con le ombre attivate per un'esperienza più inversiva Non so se la play ce le abbia Ma infatti Ma non si aggrappa È indemoniato Ciao Ma dove mi state sparando ragazzi? Si spara dritti No Va là No dai Ma che cazzo C'era quel cosino Canter posso spararmi io? Ma che male No Tu muori No non andiamo più avanti così È il primo che arriva È Gambur Sì Ci hai uccisi entrambi Vabbè che collaborativa questa Deathrun Spero di no Se no non arriviamo più io e Spawn Grazie sparami pure eh Quando vuoi Ciao Vai Spawn qua Ma Ma Dio Ma mi ha ammazzato Proprio rectatissimo Non ho pensato ci fosse sta cosa Non vorrei essere antipatico Ma così vorrei che Camper Sì esatto Perfetto Ma con due Guarda che lo dica la mamma Se non la smetti C'era il checkpoint qua Adesso mi blocco in volo Ah è morto anche Camper Come ha fatto? L'ho tappato Ah Oh questa cosa delle zappe Però state calmi eh Ah merdoso Checkpoint Eh ma lui c'ha lo spawn Ciao Dai oh posso venire anch'io Vai vai vieni No cazzo Volevo schivarlo Dai andiamo avanti Adesso è un po' più difficile Vieni coglieste No Minumale che sono andato sopra la piattaforma Minumale Raga abbiamo solo 3 ore e 46 Dai spostati A casa Aia basta A casa Non ce la mangio più No dai No dai Come come le giostre che spari a No Ma scad ma lì si scende Bisogna fare proprio tutta una tirata Prova a buttarti giù Mi sa che bisogna fare tutta una tirata Visto che Hai uno di vita Vabbè mi butto giù vai Allora facciamo un patto di non belligeranza Di come Posso spararmi da solo Prego prego Sì si spari pure Dai No dai Madonna Sono gli accoltellatori Siamo di stare in una stazione Quelle proprio brutte A termini Alle 11 di sera Cazzo Oh ne fa due Cazzo ne ho fatto due di porte Vi scongioro possiamo con la Oh meatbusters Posso piccolare la gente dentro il cannone Dai Madonna Raga mi è vero che tra 4 minuti Io chiudo la registrazione Allora Siamo tutti calmi Ok Ok stop Non è facile Come si poteva credere È quello che mi sto cercando Da dire da mezz'ora Camper stai fermo Camper 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 Dai guarda Dai Che autistic Che schifo Madonna Madonna Puoi spararmi giusto Io Ma se tu che devi mirare Eh si guarda Sul muro Eh fermo Fatemi scendere Come si scende Puoi spararmi giusto Il buco è là Lo spara lì Mira sulla punta della freccetta Scud Te lo pingo pure Bisogna mirare lì Secondo me Fatto Facilissimo E dove hai mirato Dai non te lo dico Camper ti sopra zappare Lì è perfetto Yes Quanto pare davvero perfetto Checkpoint Adesso vieni qua scud Vieni qua Ora aspettiamo qui spawn Quando arriva lo zappiamo Appena atterra Boom L'osso Venga bobo Appena atterra Tanto non ci arriva Io ho già difetti funzionali Nel beccare il buco Eeeh Col cannone Mi chiamano sempre Le tue ex Ma perché mi spara storto Dipende un po' Da quanto incrociato C'hai le ginocchie Che sei la ginocchia storta Mi sa che va storta Io vorrei vedere Non vedo spawn che muore Accidenti Adesso è diventato Modenese Vieni qua amichino E tu salti Guarda Vieni Salta sopra Mi spiegate dove avete mirato Quasi eh C'è lo puoi fare Oh è qua È qua Zappa 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 No dai Bastardi Non mi avrete mai Vabbè Facile L'ho preso il checkpoint Io vado No E già cominciamo col parkour Cominciamo già con le bestemmie No Spawn Bodyblock Adesso è bodyblock Prima era piccoliamo ogni cosa Chi è che si è stato per sparare Grande spawn No ma l'hai preso C'è l'uragano Che parte l'allarme in città Forse è un asino Dove sono arrivato Fossero tutti così Salti delle death run Scusate Prova a continuare Sulla sinistra camper Forse è giusto Oh No dai Fuck Ma io qua Cosa devo fare Andare dritto col parkour Prova Ha provato effettivamente Ho tre kill Come mai Io ne ho sei Io ne ho sei Che carri Incredibile Dai io spostati Mi prego Camper ha spedito spawn E lo scrigno di Davy Jones Oh sì Comunque c'è da fare parkour Ci si può arrivare Ci si può arrivare in un colpo solo qua Se vogliamo Io sono arrivato dall'altra parte Eh boys Ciao eh Ma il canone l'hai usato L'ho usato per arrivare lì a metà Che bella merda Da qui come si fa E poi devi passare intorno Sopra le rocce Esatto lì Poi passi sopra No Bello L'ho tirato dritto Ma Non curvare Ma è parkour di nuovo Andrei in macchina Quando vai in macchina Ci sono le curve E lui tira dritto Ah no Non c'è la macchina Io ormai sono un master parkour Madonna No Pure la visuale mi sarebbe cambiata Per dirmi Guarda che sei caduto Scaduto Ti scongiuro Puoi non zapparmi No Togliti Ti scongiuro Non c'ho le mani in tasca No Il video non finisce più Se tu mi zappi adesso No C'ho le mani in tasca Alzo le mani Ti mando una foto E alzo le mani Come si fa a salire di qua Devi passare su di me Hai preso il checkpoint Prego Ora lo vado a prendere Se no salto Ti zappo E passo Infatti Tu l'hai preso il checkpoint Camper tu hai sluggato? Manca poco Vabbè dai Stavolta abbiamo 3 ore 39 Quindi abbiamo un sacco di tempo libero Possiamo aspettare Ma Allora Mappa difficile Parkour E Andrea non arriva Mi ricorda Qualcosa Non lo so 5 secondi Ho solamente difficoltà Ad arrivare al cannone No Il cannone Ce l'hai davanti È la cosa più Lo so Continuo a scivolare Oddio ma non riesci a fare Il saltino del cannone Ogni tanto sbaglio Ci muore Non lo so Inciampa Attenzione Tentativo La gabbiamo È andato male Allora Puoi non fare i test Che è già passata mezz'ora Secondo te Sono test Questi Come Sono tentativi disperati Io non sono test Almeno dimmi che sono test Beh io intanto Mi mangio una pasta Al cioccolato Poi fate voi Oh Oh Ma cosa C'è passato in mezzo Adesso ti zappo Adesso ti zappo Vieni qua Zappalo 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 Diretto proprio Allora io vado Io vado a quello a destra Spoon vai a quello in centro No Dai vabbè Non so Ha un kill Arrestatelo Carabiziotti Dove sta buttando Dove l'ha buttato Il cannone Ok E qui lo devo fare Ah un altro cannone Ma perché i cannoni Non si possono mettere Con dei Fermacose Che stanno qui Fermi Ah bella domanda Anche perché Lo spari E lo butta all'inizio Ehi là Bene Ah ma non è un checkpoint Questo Eh no Oh Oh Deve esserci precisione Millimetrica Guardalo 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 Madonna Sonic Sonic nei giochi lineari Oh Facile Vedi 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 Ma dove devi andare tu Oh Oh Fermo tu No Scott E lo rifà Attenzione È facile No Puoi rifarlo Porco Se ti odio Dai È facile Tranquillo Per questo mese Niente paga Ah beh Allora Come se cambiasse qualcosa Dal mese scorso È come non dar da mangiare A un barbone Spostati che ci metti tanto Tu Dai Caga cazzo Vedi Oh Prende il volo Prende il volo Prende il volo Prende il volo Ce l'ho fatto Pezzo di merda Sta arrivando a spawn Capere Non sto arrivando io Io sono ancora più indietro Perché Andrei Mi ha ucciso Dopo tutta la fatica Che ho fatto arrivare Quale fatica Per me era difficile Pure quello Lo aspettiamo qua Gli fiumbiamo addosso Come Assassin's Creed Esatto Ce l'hai? Sono nell'aquila No Oh Scar Scar Pingerti di una statua Vabbè le statue salutano Tipo In centro a Milano C'è le statue che salutano Ci provo Oh Ce l'ha fatta No Ragazzi Vorrei dire una cosa Uccidermi appena arrivato Non è funzionale Ai fini del video Non andiamo più avanti Dilla scad Dilla scad Tanto ti ucciderà Prima la mappa Non facciamo a piacere Mappa E' arrivato Eccolo Eccolo L'attacco A bacca Mamma mia come i dojo Ma fa il culo Ora non si muove Il respawn Manco su Apex Dojo è così bello Morite tutti Ho 11 kill Bravo L'unico gioco In cui riesci a fare le kill Il titolo di questo video è Non lo so Win 12 kill team Mob leggendaria 20 bombe Mob di compagno Ogni cazzo Ah grazie Ma ti ho sparato giusto Ha salvato Quasi Dai io Quasi Volevo ammazzarti io Dai sposta un po' a sinistra Cazzo hai fermo Ti sparo io dai Ah no sparati tu Dio Dio Per Dio Volevo ricordare che Voglio un sacco bene a Dio Gesù e la Madonna Io anche sia Comunque collegato Alla santità In generale Ma questo pavimento È un po' Eccolo signori È un po' ambiguo No Oh qui si 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 Scanniamo No Dai No Chi è che mi ha sparato Ah non lo so io Ah non lo so mica io Non so mica stato Non so lo dietro Che prima mi avevo Quello per accendere Per sparare Dove sei butto Beh io sono ancora vivo Adesso me ne va la casa Dov'è Perché è arrivato in fondo Senza morire Io sono in fondo Non muoio Eh come non detto Io sono finito prima Devi fare un passo E poi muori Sembra gli abbiano sparato Tipo È uscito dai canciali Distrutto Allora Io sono Ma di poco Ti sei spalmato sul muro Complimenti Ti sparo io Guarda Se spari in lì Va benissimo Ti sparo io Guarda Ti sparo io Guarda Direttamente ficcato Dentro le trappole Oh Mi sono sparato io Ok Spoon Vieni qua Entra dentro il cannone Ti sparo io Trastamela Poverissima Trastamela Allora Sono Hai presente quelli Che spingono le carrozzine Però non sono Romena Ok No solo che non hai L'abilitazione per farlo Vai un po' più in su Un po' più in su Un po' più in su Perfetto Perfettissimo Lui ce l'ha fatta da me Ragazzi possiamo essere Simpatici e intrattenere Anche senza Suicidarci E non davanti con la mappa Ci ho pensato il karma Comunque Ti sta bene Cazzo Sbrighi Non è difficile Giova Mi metti ansia Perché sei lì dietro Che non vedo l'ora di spararmi Quindi ci metto un po' O di picconare Attenzione E poi vuoi a te Se mi dici un'altra volta Ti sbrighi Perché Cioè Ci metti ho 12 ore A fare i parkour Che non si andava a far parkour lì Vai vai Ti prendo al volo Ti prendo al volo Vabbè C'è chi è bravo a fare i parkour E c'è chi è bravo A spararsi col cannone Mettilo nel curriculum Che sei bravo col cannone Ti devi dal cazzo Vai a prendere il checkpoint Io l'ho già preso il checkpoint Ah fammelo prendere anche a me Dai Prego Dai Giù scad Ah o salti 8 metri Arrivi al checkpoint Ma qui ci devi passare Guarda non ci arrivi Oh ci è arrivato Oh C'è arrivato C'è arrivato Spawn Concentrazione Sono concentratissimo Eccolo Ce l'abbiamo Vai che ti prendo al volo Cosa vuol dire Non mi uccidete No no nel senso che Ti raccolgo al volo Con tanta grazia E leggiadra Adesso mi spiega Cosa stava facendo Quell'altro Per favore Col cannone Eh vabbè No ma Ma c'ha le palle Quelle È giù No C'è caso Madonna Devi scoppiare Quindi il cannone L'hai buttato di sotto Ah no ok Madonna Sto prendendo un colpo E se fa di sotto Che succede? Credo Bisogna riniziare Io aspetto Giovanni Con questo Fino lo vedi passare Lo sciogli Al volo Attenzione Vediamo il lancio Che lo porta Alla seconda postazione Di salto Si accinge Verso il secondo cannone Che può portarlo Al checkpoint Prende bene la mira Sa che è un tiro Difficile E mi sparo Alla dietro Io spacco il tavolo Io Non riesco più a fare un salto Sono diventato Lobotomizzato E vedi Quando giochi Troppo a forti Spawno Facciamo una mappa Domani Io solo Io e te Per Dio Per favore Ti prego Non ce la faccio Non reggo Sei troppo Problematica Eh vabbè Devi capire Che camper È sempre tutto scarso Nei videogiochi In un videogiochi In cui può fare le uccisioni Continua a farle E si diverte Ma continua a cadere Guarda che fa tutto Lo scad Lo so Lo so Sono diventato Stupido Starti dietro Oddio Prova a ficcarti il tubo Del cannone nel culo E a sparare Vediamo cosa succede Ok Ma sono finiti i danni da caduta Non so Sì C'era un bonus Di 200 danni da caduta Li abbiamo Scusati tutti Abbiamo finito il primo checkpoint Noo Mi sono bloccato I wanna die Now No è incredibile Non c'è più il cannone posizionato come era posizionato prima E non so più come devo buttarmi Ma guarda che puoi spostarlo il cannone Ma devi mirare in alto Non prendere la caduta Quindi mira sopra le trappole Proprio al soffitto mira Tanto non hai da nuova la caduta Quindi miri lì E cadi in giù Grazie E la seconda volta Mira al muro qua Un po' sopra la freccia Tanto ti prendiamo al volo A braccia aperte Bastava Non mi uccidete Rage Quit E non finiamo il video Noo Per Dio Per Dio Cosa ho visto Noo 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 Noi non ti abbiamo ucciso Però se ti impicchi Non è che vale Voglio piangere Ritorno al centro Abbandono la partita Mi stanno uscendo lacrime vere Ok ci siamo Ma ancora? Ma come Raga ma come si fa quel salto Scusatemi Un normalissimo salto Guarda se vuoi lo faccio all'andata Ma ce l'ha fatta pure camper Voglio dire Ma come Cioè Oh Trappole Vuoi fare un totem Salimi sopra E mi ammazza Mi sembra di capire Che tu voglia inviare un feedback No Come scusa? Alexa riproduci il discorso Dai muoviti Mi sembra di capire Che tu voglia Inviare un feedback Se parlano del cratone della mappa Si glielo inviare volentieri Un feedback Raga ma è easy È easy È la terza volta Che ci cade Ricorrere Fare così Eh sì Eh sì Ma perché tu non c'è la pressione No Dai vabbè Sei un caso perso Signori Andiamo avanti Non c'è mica modo Mi dai il tuo account Che entro nella mappa E gioco Perché Io sono bloccato Sotto la mappa Stormy dove sei? Sono in un glitch Va bene Vediamo la Era fermo lì È morto Salto della fede Sono pronto Oddio stavo mettendo un muro Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vabbè Uccidetemi quanto volete Dove si bisogna andare? Il cannone l'ho girato Rispetto a come era prima Penso che bisogna mirare In quella fostura là Quel buchetto Il problema è che Col contraccolpo Poi il cannone va sempre dove vuole No aspetta Bisogna entrare nel buco Poi ci si butta giù No perché io giù Ho visto roba brutta Perché si è girato così? No 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 Milioni di trappole Eh eh No Ah Bisogna anche buttarsi verso sinistra Perché verso sinistra? Che sono trappole dappertutto E' perché poi c'è una roba dove ti blocca E moriresti dalle trappole Spawn Hai fatto andare il cannone nell'altra slot No Distruggetela Si rigenera? Boh Scopritelo Come boh? Ma cosa boh? No è finito giù il cannone Come è finito giù? Eh beh certo Eh perché dietro non c'era muro Eh vabbè Mi sono arrivato in fondo comunque E quindi? Quindi ora provi quei risalti Se ce la fai No Ah si fa responare un cannone? E' il problema che non doveva proprio andare nell'altro quadrato Ho capito ma E' come chi l'ha programmata col culo sta mappa? C'è scritto in alto chi l'ha fatto Quindi Vi ha finito la partita Quindi Grazie a tutti ragazzi Dov'è il cannone? Da che parte è finito? Il cannone ha rimbalzato al di là E' venuto qua E poi? Scott si è sparato E ha preso un contro al colpo Che è finito giù di qua E infatti è qui Torniamo al centro E poi ritorniamo dentro Magari si rigenera il cannone Io mi fido Tornate tutti al centro Tanto da lì non possiamo andare più avanti No da capo Ah da capo capo? Oh Eh già Beh ragazzi E' stato bello Divertente Emozionante Non è colpa nostra Se non potevamo più andare avanti Io questa non la ricomincio Sia chiaro Ma neanch'io Ci abbiamo provato anche oggi Non è andata a buon fine Ma l'importante non è finire Deathrun Ma farvi divertire Probabilmente abbiamo fallito anche in quello Eh Andiamo a ucciderci Vabbè apro la finestra Adios Adios